Da sempre Focus Point fa la differenza, perché propone solo lenti di alta qualità. Essilor Zeiss, Hoya, Rodenstock. Esperti ottici al tuo servizio, occhiali certificati e garantiti, griff delle migliori marche, riparazione occhiali, pronta consegna occhiali graduati da vista e da sole, controllo gratuito della vista, topografia corneale, centro applicazioni, lenti a contatto. Focus Point, via Alcide De Gasperi 22, Agropoli, Salerno, telefono 0974 82 80 49, anche su Facebook e Instagram.